Francesco Cara credo che sia in presenza invece, buonasera professore Buonasera Adesso saranno tutti qui da lì Accenda il microfono Lei è il primo in presenza quindi la posso interrompere Docente di Eco Design Vuol dire anche immaginare come fare business è una parola brutta però insomma quello, sviluppo economico Assolutamente, assolutamente Prima di tutto grazie per questo invito che anche mi ha offerto l'occasione per cercare di capire un po' meglio quella che è la visione dell'attuale governo della Lombardia rispetto all'economia green e all'economia circolare Appunto io insegno all'Uied che è una scuola privata è una società benefit ed è una scuola che da 6-7 anni a questa parte sta realmente facendo uno sforzo per formare i designer per il mondo a venire e in questo è veramente incommiabile questo mi dà la possibilità di passare circa 4 mesi all'anno a contatto con dei ragazzi giovani 20 anni, 21 anni e insieme a loro cerchiamo di immaginare quello che sarà il mondo a venire un mondo positivo non siamo interessati a scenari distopici cerchiamo di immaginarci un mondo che è un mondo desiderabile un mondo realizzabile pure e lo facciamo guardando le società che sono le più avanzate appunto in questa trasformazione verso un sistema economico ecologico mi sono chiesto quindi come prima cosa quando ho ricevuto questo invito di cercare di capire un po' più in dettaglio che cosa ha in mente il governo della regione Lombardia quando parla di economia verde e ho trovato questo documento che è stato approvato in giunta il 16 gennaio quindi un documento molto fresco e che è stato creato nel dicembre dell'anno scorso e si chiama quindi Piano Industriale Strategico per il rilancio della Lombardia in questo documento viene riconosciuto il fatto che la transizione ecologica e l'economia circolare sono le principali sfide che la Lombardia dovrà affrontare da qui al 2050 passando per il 2030 come obiettivo intermedio ecco è interessante andare a vedere quelli che sono i piani della regione Lombardia per realizzare e per affrontare questa sfida ci sono 5 obiettivi vi dico subito 3 degli obiettivi riguardano il sistema energetico e ne abbiamo parlato in modo molto completo e molto ricco oggi il primo è quello di portare la produzione di energia alle fonti rinnovabili che è al 17% da qui al 2030 e poi nei 20 anni seguenti arrivare al 30% come abbiamo visto siamo intorno oggi al 15% per cui i prossimi sette anni serviranno ad aumentare questa energia rinnovabile di una frazione ai miei occhi molto molto limitata quindi chiaramente una visione molto poco ambiziosa la diffusione delle comunità energetiche di cui abbiamo parlato prima con Gianluca Ruggeri prevede al 2030 85 comunità energetiche che quindi producono e consumano energia rinnovabile e queste nel 2050 saranno 150 quindi anche qui degli obiettivi veramente molto molto limitati penso che Gianluca sia d'accordo e poi una capacità di 68 gigawatt anno nel 2030 ora abbiamo già parlato di energia per cui passo alla parte economia verde il primo obiettivo che viene dato è che le imprese abbiano una certificazione ISO 14001 che si arrivi a 4.000 certificazioni entro il 2030 e che si arrivi a 4.500 entro il 2050 per cui anche qui abbiamo una ventina d'anni per raggiungere 500 aziende certificate e poi per il riciclo dei rifiuti stiamo parlato di 5.500 tonnellate nel 2030 ora quello che vorrei sottolineare a parte appunto questa mancanza di ambizione che mi sembra lampante è un altro aspetto e cioè quello che in effetti si racconta una transizione verso un'economia ecologica estremamente limitata il concetto principale è quello della riconversione delle imprese e questa riconversione delle imprese si fa per esempio facendo sì che il maggior numero di imprese possibili siano certificate ISO 14001 ora per essere sul mercato internazionale oggi ci vogliono delle certificazioni tante, complesse e molto molto legate al settore industriale se pensiamo alla moda stessa abbiamo delle certificazioni che certificano che i tessuti impiegati sono effettivamente organici, GOTS, ci sono certificazioni per dimostrare il fatto di non usare prodotti chimici potenzialmente dannosi nella produzione e anche poi nel portare i capi eccetera eccetera per cui abbiamo una prima enorme limitazione nella comprensione del ruolo che hanno oggi le certificazioni in un'economia verde ma la cosa più importante è che sembrerebbe che l'economia verde si costruisca solo con una traiettoria unica prendendo delle aziende preesistenti e convertendole in aziende green ora questo è molto limitante come visione abbiamo la fortuna di avere delle aziende che funzionano su un modello economico diverso dal modello economico dominante che hanno già integrato il modello delle tre P le persone, il pianeta, il profitto e abbiamo delle aziende che vengono riconosciute oggi come B Corp o come aziende ad impatto insomma abbiamo una varietà di modi per descrivere queste aziende ed è molto interessante andare a vedere effettivamente porsi le domande e dire ma esistono delle aziende di questo tipo e per esempio c'è un, vi dico un esempio molto rapidamente questa officina del colore naturale che è una tintoria vicino a Mantova che funziona unicamente con prodotti naturali che vengono coltivati in loco è una piccola impresa che lavora con tintori, tintorie più importanti sviluppando questo approccio naturale alla tintura e ce ne sono altre ma ci sono anche altre aziende che sono aziende che sono mutate che sono nate magari nel secondo dopoguerra e che ora sono diventate aziende molto molto avanzate dal punto di vista dell'economia green penso per esempio a Candiani Candiani che produce questi tessuti denim sostenibili e che è un'azienda nata nel 35 e che oggi è una delle aziende leader a livello mondiale nella produzione di denim sostenibile e sapete quanta acqua la produzione di denim consuma e quanti coloranti riversa nell'ambiente eccetera eccetera perché fanno un lavoro veramente eccezionale e questa Candiani aggiunge un altro elemento cioè non punta unicamente alla sostenibilità ma punta alla rigenerazione perché da un certo punto di vista la sostenibilità non è sufficiente visto che abbiamo un pianeta, una società così deteriorata non ci interessa avere un impatto zero noi dobbiamo cercare di avere un impatto positivo e quello che lo fa lo fa essenzialmente sostenendo un'agroecologia nella produzione del cotone che verrà utilizzato poi tra i jeans ho quasi finito ma c'è una terza categoria che secondo me è molto importante e sono le aziende che effettivamente in modo molto consapevole stanno modificando i loro prodotti e penso a una grande azienda d'arredamento, la B&B che dal 2018 ha cominciato a selezionare delle linee di prodotto a analizzare in grande dettaglio qual è l'impatto in termini di carbonio e l'impatto sull'ambiente di queste linee e a riprogettare la produzione di queste linee ora c'è un tema che è comune a tutte queste tre tipologie che come vedete vanno molto molto al di là di questa idea di ristrutturazione, di riorientamento di un'azienda e uno è l'eco-design e l'eco-design è un concetto veramente fondamentale che l'Unione Europea sta introducendo in tutte le sue normative per categorie di prodotto ed è l'idea di dire io progetto un prodotto, un servizio guardando a tutto il ciclo di vita guardando alla selezione, all'origine dei materiali e delle componenti che vengono utilizzate fino al fine di vita in modo che il prodotto per esempio sia facilmente smontabile che si arriva in modo molto facile alle componenti principali ai materiali principali materiali che sono stati scelti come riciclabili per cui materiali che potranno rientrare in circolo molto rapidamente ora dal punto di vista della regione Lombardia torniamo un attimo c'è stato nel 2021 un bando che si chiamava Bando per l'innovazione delle filiere di economia circolare questo bando ha riconosciuto 53 aziende come aziende che potevano accedere a questi bandi di queste aziende 44 appartengono a delle attività che non hanno nulla di green, nulla di sostenibile stiamo parlando di cave stiamo parlando di aziende di trasporti su gomma stiamo parlando di aziende che veramente appartengono a questa prima categorizzazione di cui vi parlavo e che oggettivamente non hanno futuro per cui potremmo chiederci perché investire risorse su aziende che non hanno futuro ora di queste 53 aziende che hanno ottenuto che sono state approvate per questo bando ce ne sono 9 che appartengono a queste categorie che vi ho descritto rapidamente ora dal punto di vista, cosa si aspetta uno dal mio punto di vista dalla comunità che rappresento è che il nuovo governo della regione faccia due investimenti principali uno nell'ecodesign abbiamo parlato già dell'importanza dell'educazione professionale ora tutte le persone che entrano in filiere di educazione professionale devono pensare la progettazione come una progettazione per il ciclo di vita nel suo insieme e la seconda cosa molto importante visto che abbiamo sentito parlare di grandi fondi bene, dirigere questi fondi non verso delle aziende che proprio strutturalmente non sono sostenibili ma dirigere questi fondi verso delle aziende che a diversi momenti del loro ciclo di vita stanno veramente trasformando la nostra economia grazie 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 ci abbiamo tempo e avrei fatto una domanda non gliela faccio però ci pare di capire che le aziende che innovano in questo campo in Lombardia lo fanno nonostante la regione Lombardia allora non mi risponda perché non c'è tempo sì sì no no l'unica cosa c'è uno dei finanziamenti più importanti che ha dato una di queste aziende mi ha fatto molto piacere vedere quello ecco per cui c'è poco aiuto molto poco grazie